Sì, non è riuscito a fare un'altra cosa, ma i ricordi non arrivano solo per dire, oh, come sono fatte così strano, vabbè tanto vale di tanto la pena andare, cosa, andarlo a tendere, quindi camminano e scenderemo per i ragazzi. Aspetta un'altra cosa, canice, eccomi, è stato tutto il tempo l'acqua venta qua, ecco, dobbiamo andare a prendere un regalo e la posta che devi restire, va bene, Allora, non so mai con cosa mettermi, non so cosa fare, per tanto, perfetto. Ok, non so, 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 Ma come? Ma aspettate, la borsa. Sono ancora qui, ma qualcuno mi vuol liberare? Andiamo. Andiamo. Posso che vedi? Va bene, andiamo a mangiare, va così, dobbiamo fare a colazione, ma vedi che sono ancora tuttavia, così perché sono allora potete andare avanti la batteria è quella che ci si che si andrà perfetto andiamo pingu resta qua se lo abbiamo dopo se lo portiamo nel giardino di casa va bene sono così felice ma è diventato tutto primaverile forse sarà qualcosa per l'inizio della primavera no scusate la primavera non è iniziato il 21 marzo ah si è vero mantini è torato perfetto è torato perfetto non ci credo bellissimo bellissimo lo amo molto primaverina ma già non dobbiamo pure a comprare questo primaverina andiamo ok ma basta questa non la mette ma non è giusto voi se la mangiate con la bicicletta cosa è cuore cuore spezzato non lo so si colorano i due cuori i due cuori si colorano oddio non lo so proprio stai per esco stai per esco a spiegare lo sanno ah veramente adesso siamo qua le bolse e vedo ora va il giolo con l'acquillone e ne ha quando non si perdere oh è venuto a piovere è ragionissimo fa freddo non ci sta dormendo vabbè sinceramente io preferirei tornare a casa andiamo vediamo ho fatto una marina di freddo e ecco la freddo ma è più quando porta la pioggia ma noi non sapevamo che portava la pioggia oggi oddio fa veramente freddo bene sapete che vi dico mettiamoci sotto in peggio ragazzi ma dove hanno questi mi ammazza pure il pottato non lo so mettiamoci sotto in peggio vedete a mettere un po' che io il pigiama quindi qua lo so che è giusto questo pigiama è piatto ok abbiamo capito primavera ma odita se non lo vedo è stupendo e sapete che vi dico ora si andiamo accettando un bel Teto una bella Cisana un'ottima idea di piove veramente tanto freddo ma secondo me sarebbero meglio delle tazze non so non tocca nulla devo mettere un po di zucchero ok perfetto è pronta questa tisana no non l'ho mai fatta mai non so che fa ancora freddo siamo in primavera non ci credo che è primavera come potete venire insomma lo attacca e non è così buona perfetto ancora ancora sono sorpolate se la farò mai a fare la tisana perfetta non è mai venuta bene cuoci tisana cuoci cuoci tisana cuoci non so nemmeno come si fanno si fa una cosa a caso si fa una cosa a caso ma si è tutto normale faccio sempre cosa a caso tu 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 ma c'è ma c'è ragazzi non c'è ragazzi non c'è ragazzi non c'è solo come la pentola dai che mi devo andare per i video delle craft e mi devo svegliare Sì, ma sicuro che c'è stata strana? Non vuole rispondere. Perfetto, la prima è pronta. Oh, dopo un anno. Eh, ok. Tonna, so che io fa così. E l'abbiamo fatto, voi. Che la faccio? Mai più, mai più! Non farò mai più matisano in vita mia. Non ho parlato del tempo che ho sprecato. Non ho visto il mio matisano. Ma non l'ho voluta io! Lavi tu? E che vuoi? Il mio caffè, vai il cavolo. Guarda che pulisco sempre io. E guarda se andiamo con i miei cittadini. Grazie, oh Dio. Oh, che a me piace. Aspetta, faccio un ruolo da bambino. Ma che stai? Ti do una tazza, non c'ho da meno. Ma sto pulito! Dammi un bicchiere. Eh. One Piece. Perfetto. E' pronto. Non ce l'ho aperto. Ma vai! Allora, leccello di guardare venire via le crafty e addio. E' pronto. Sì. Sì.